Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gioco. Siamo su Zombie Drive HD, un gioco di zombie. Oggi avevo voglia di cambiare contenuto e per questo che non vi ho portato Minecraft. L'obiettivo di questo gioco è cercare di salvare dei sopravvissuti in un mondo ormai infetto e pieno zeppo di zombie ragazzi perché ci saranno tantissimi zombie e tantissimi boss potentissimi che dobbiamo distruggere durante le varie missioni. E ovviamente dobbiamo collaborare con i militari per cercare di liberare delle diverse zone in giro per la città. La visuale di questo gioco ragazzi è in stile GTA quello vecchio quindi si vedrà tutto dall'alto e sarà veramente difficile riuscire a manovrare l'auto perché visto che noi siamo il personaggio principale giocheremo nelle auto. Ovviamente ci saranno tantissime auto da sbloccare e da modificare. Infatti guardate l'auto nel menu principale è tutta modificata quindi l'obiettivo nostro è cercare di sbloccare pezzi che comunque si vincono nelle varie missioni come bonus e quindi dobbiamo cercare di crearci delle vetture corazzate con mitra, con nos ovviamente per cercare di massacrare quanti più zombie possibili. Direi che possiamo iniziare con la carriera cioè con la campagna. Comunque ditemi se questo gioco vi piace così io lo continuo. Ok qui la città era fantastica ragazzi come vedete era filava tutto per il verso giusto fin quando nella centrale nucleare è scoppiato qualcosa che ha infettato tutta la popolazione e quindi le persone hanno iniziato a trasformarsi in zombie e quelle poche persone che si sono salvate si sono rifugiate nei vari edifici e infatti l'obiettivo nostro è andarli a salvare. E ragazzi io l'ho finito questo gioco ma ci saranno tantissimi zombie in giro e quindi sarà veramente difficile e ora vi farò capire il perché. Ok prima missione codice missione 01 operazione pesce grosso salva il sindaco dal municipio premio missione 1500 dollari mitragliatrice livello 1 e turbo livello 1 obiettivo bonus il sindaco vuole vendicarsi per la distruzione della città uccidi 275 zombie e in più ci darà un bonus di 1000 dollari. Ok ora dovrebbe farci partire con un'auto scadente ragazzi perché siamo all'inizio del gioco quindi sicuramente ci farà partire con un'auto schifosa stiamo a vedere. Ok abbiamo installato la nostra base in questo complesso di magazzini. Gli zombie attaccano a ondate nonostante il fatto che per tutto il tempo gli stiamo sparando contro abbiamo già mandato alcune squadre di soccorso in città ma la maggior parte di loro non è più tornata e adesso siamo bloccati dagli ordini del governo. Se viaggerei velocemente dovresti riuscire a distrarci per arrivare dalle persone vabbè la traduzione ragazzi non è un granché però va bene si capisce. Allora vediamo la nostra prima auto. Oh mio dio il taxi ok ragazzi queste icone indicano gli obiettivi della tua missione seguili per individuare gli obiettivi. Ok il taxi come vedete è lento ragazzi fa schifo il taxi ma vi assicuro che quando sbloccheremo i vari pezzi diventerà qualcosa di pazzesco. Questa cosa che ho raccolto serve a riparare il taxi da eventuali danni. Vediamo se ci sono i primi zombie vedete quanti cadaveri di zombie eccoli lì ragazzi. Ok se io gli vado contro così io li ammazzo quindi posso investirli ma visto che il taxi è lento vi voglio far vedere un esempio. Visto che il taxi è lento se i zombie mi circondano è difficile che riesco ad accelerare vedete come comunque faccio fatica ad andare avanti. E questo perché il taxi 1 è lento poi non abbiamo il turbo e quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Comunque dirigiamoci all'obiettivo vedete com'è la visuale ragazzi dall'alto in stile gta vecchio. Comunque ripariamo subito il veicolo ci sono anche dei soldi da raccogliere in giro i soldi serviranno ovviamente a fare l'upgrade ai vari veicoli. Ok vediamo se possiamo arrivare senza farci ammazzare ok ho preso un autobus di faccia ok 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 ok. Vabbè fin qui va tutto bene perché fin quando io li investo in velocità riesco sempre a passare ma se ragazzi se mi blocco sarà veramente un casino. Penso che ci siamo avvicinati all'obiettivo vediamo un po' dovremmo cercare una strada per girare ok qui poi a sinistra ok ragazzi ci siamo. Ok questa è la macchina del sindaco come vedete non parte vediamo un po' cosa ci dice. Finalmente qualcuno è apparso abbiamo cercato di evacuarci ma questa ammasso di rotame non si vuole accendere l'elicottero e già ne arrivo ma se non uccidi quegli zombie sarà troppo tardi. Ho aperto per te un arsenale di supporto della guardia nazionale prendi quello che vuoi ma ammazzali tutti. Ok in questo momento ci dà l'opportunità di diciamo di installare sul nostro veicolo dei diversi equipaggiamenti che adesso vi faccio vedere se mi fanno passare. Ok questo è il mitra questo è il nostro dovrebbe essere no non è il nostro è il lancia fiamme che è il nostro è questo qui ragazzi vedete guardate tasto destro del mouse posso sprintare. Allora io direi di usare subito il lanciarazzi che fa molto molto più danno e visto che abbiamo il nostro possiamo investire i zombie finalmente vedete come andiamo più veloci ma vabbè il taxi comunque sempre lento di suo poi ci saranno anche dei veicoli velocissimi dei supercar comunque ammazziamo tutti questi zombie e cerchiamo di liberare il sindaco direi di fare una cosa di prendere assolutamente il mitragliatore che è molto molto meglio ragazzi guardate guardate cioè gli distrugge tutti il mitra non c'è scampo li devasta tutti dobbiamo uccidere ancora 28 zombie non c'è problema il veicolo si sta per rompere ma noi ce la faremo lo stesso vai 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 ti salvo io sindaco non c'è problema ti salvo io ti salvo io ok 4 zombie ok curiamo un attimo il veicolo quanti zombie mancano vabbè sono due muori ok cavolo ti ammazzo io ti ammazzo io ho finito i colpi ok per fortuna che ci siamo riusciti vediamo cosa ci dà il sindaco ovviamente le truppe militari sono riuscite ad arrivare perché noi abbiamo distratto i zombie sei nato per questo lavoro butene giù più che puoi ti pagherò un bonus per ciascuno di essi e fallo con stile non c'è problema ok quindi prima missione direi andata a buon fine vediamo cosa dobbiamo fare ora ok mi sa che dobbiamo dirigerci a casa si questa icona indica la direzione della base perfetto quindi andiamo nella base perché ragazzi nella base serve a far finire la missione quindi dobbiamo andare sempre lì ogni volta che finiamo una missione ok quindi cerchiamo di arrivarci sani e salvi senza morire ok 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 oh qui c'è un barco direi di girare e vediamo se possiamo tagliare di qua penso di sì vediamo un po' nossa vai sprinta sprinta ok io taglio è sempre meglio tagliare ok questa dovrebbe essere la base sì dovrebbe essere la base ragazzi sì ok fermiamoci sì missione completata con successo quindi vediamo ora cosa abbiamo guadagnato missione principale completata abbiamo 1500 di dollari mitraliatrice livello 1 e turbo livello 1 perfetto ah ok volevo far vedere la seconda missione salva 4 persone da 2 case premio 3000 dollari miglioramento della carrozza della corazza e macchina sportiva la bugatti ragazzi quindi direi di farla subito prendiamo il taxi e aggiungiamo il mitra vai così possiamo partire subito a bomba salviamo queste persone così ci daranno la macchina sportiva che con quella sarà un devasto ok cavolo ci sono i lampi andiamo alla prima casa vediamo un po dove si trova dovrebbe trovarsi vicino stiamo a vedere ok eccolo ragazzi ok quindi noi dobbiamo uccidere tutti questi zombie e poi oddio che lampo dobbiamo uccidere tutti questi zombie e poi metterci su quel punto per far venire diciamo le persone in quella casa lì perfetto quindi uccidiamo tutti questi mancano pochi zombie guardate ragazzi che macello con il mitra ok se mi aiutano questi qui io riesco ad ammazzarli ok perfetto anche loro hanno sparato sei tu quel tassista sì sto parlando con te scherzo grazie di avermi salvato ora credo che dobbiamo portarli in base ok sì perché il taxi non essendo una grande vettura non c'è spazio per tutti quindi in futuro quando sbloccheremo tipo gli autobus possiamo fare cioè possiamo trasportare più persone insieme salviamo la seconda famiglia c'è il secondo gruppo e come vedete sull'obiettivo c'è anche un tempo quindi dobbiamo sbrigarci ok andiamo 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 quanti zombie ragazzi quanti zombie cerchiamo di non rovinare il veicolo perché potrebbe scoppiare se se ci devastano no? quindi dobbiamo stare molto molto attenti ok giriamo di qua oh mitra gg perfetto ma di qua non si può uscire è un veicolo cieco ragazzi cavolo quindi dobbiamo girare e speriamo di arrivare sani e salvi lì dai che ci riusciamo ragazzi ci riusciamo dove cavolo stanno questi? ah eccoli ragazzi eccoli perfetto ammazziamo tutti questi bastardi di zombie venite qui vi massacro tutti dovete lasciar stare quel gruppo a me mi serve la macchina eccola la macchina ragazzi la vedete la bugatti è parcheggiata lì la vedete? quindi quella la sarà nostra se uccideremo tutti questi zombie perfetto ne mancano 25 credo che stanno sparando anche loro dalle finestre quindi alla grande gg 7 zombie rimanenti eccoli qui cavolo uccidetemi l'ultimo perfetto perfetto oh ok grande ragazzi ci siamo riusciti wow ho pensato che a salvarci sarebbe arrivato l'esercito però anche un taxi va benissimo leviamo le tende prendi le chiavi della mia macchina spero che ti possa servire a schiacciare qualche zombie certamente la bugatti è veloce la voglio portiamoli a casa e vediamo se realmente ci da questa macchina spero di si vai maledetto vai a casa vai a casa ok si possiamo tagliare guardate quanti zombie ragazzi veramente infestati poi ve lo assicuro ragazzi ci saranno dei boss giganteschi dei giganti ok abbiamo completato la missione e ci darà anche il nostro veicolo quindi direi anche che possiamo lasciarci qui ragazzi e ditemi voi se vi fa piacere che continuo questo gioco ok abbiamo ucciso 238 zombie missione principale completata ci da 3000 dollari miglioramento della corazza e macchina sportiva e in più il bonus 2000 dollari perfetto questa è la terza missione che non farò oggi ragazzi ma la faremo nel prossimo episodio quindi fatemi capire una cosa se metto continua ok si mi fa andare lì e niente ragazzi fatemi sapere se questo gioco vi piace che lo continuo ci sono diverse modalità tipo continuazione elettrone vabbè la stavo facendo e tipo una corsa con altre persone ma non in multiplayer dove ognuno ha una bomba e deve cercare di arrivare ai checkpoint velocemente prima che esplode la bomba poi in macelleria dobbiamo cercare di battere un record uccidendo quanti più zombie possibili e anche lì ci sarà un devasto estremo e niente ragazzi dai fatemi sapere voi nei commenti e alla prossima ciao ragazzi grazie